Bella ragazzi in questo nuovo video io sono Alessandro Piccolo ragazzi siamo qui ancora direi l'ennesima volta da soli ragazzi per cercare di salire ancora di più ragazzi siamo a argento 4, vorrei salire più o meno verso l'argento 1, 1, 4 ragazzi perché io ho quel grado mi merito e di là sono un pochettino mal connessionati noi tutti 100 e meno le connessioni quindi cerchiamo di fare una bella partita e più che altro di vincere perché quella è l'importante ok ok vediamo un po' cosa riusciamo a fare 5 secondi raggiungete il contenitore di più rischi e difendetelo non si mia seconda account raga vai 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 ok vediamo un po' cosa riusciamo a fare buona 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 cosa ci prendiamo direi oliva frost allora ci prendiamo opul no dai capcan casino casino che è? sala di comando mi ricordo va bene ok no è vero trappola è sposta e passata la mappa giusto giusto ok esportatemi esportatemi ok un ocular qua ancora qualcuno vuole venire a dronare là ha una bella sorpresa di Natale e l'altra buco ah no 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 se qui hanno piazzato lo scudo un nemico ha individuato il contenitore di più rischio eh eh però l'hanno piazzato male ma mi metto fortificato ma così la vedo no 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 c'è che ci va piazzata da qua qua no ma è la testa ma lo stesso via no ragazzi la botola la botola ahia ahia a me volevo andare da dentro allora è una fa una sinistra è un adesso buonissima band ma la fate fuori la c4 ok sono andato a band buona e veniamo così e che se ne dimentica che sarci qua spentate ulteriori accessi al contenitore ahahahah scemo scemo pensavo che stavo dietro alla dietro il mobiletto piccolino ahahahah invece no caro cioè ragazzi guardate che mimetic ho trovato ora ho aperto un pacchetto epico e l'ho trovata anche questa qui che non è bellissima però l'ho trovata in un pacchetto non ora ieri ok ok eccoli e dove però ah ah casino ok stanno facendo la botte il contenitore di piedi è stato individuato ma come fa il piacetto con le cose basse ahahah ah ma il filo scatola l'hanno messo dove lo dovevano mettere l'hanno messo solamente a questa entrata l'altra no buono così possiamo aprire come cinque secondi ci mancilla ci ha messo raggiungete la posizione del contenitore di più rischio ok ok ma stenti ecco io lo sapevo c'è cacca non sta la e valkyrie ne dobbiamo parlare che valkyrie sta sopra eh ne dobbiamo parlare raga pure valkyrie sta sopra ah no è là è là buono 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 ah è qui non hanno paricato boom stent ricarico carica a gran muro pronta come dentro ce ne ci no quant'è è il rossa qua eccolo si va il tuo tornate a occuparmi del contenitore dopo la mia cia un solo difensore rimasto dai è là è là è là è là ah è la curia un ferimento è la curia di averli attaccato buono eh è un ferimento io ho sparato così perchè io ero sicuro che stava la allora vediamo innanzitutto dove andiamo perchè perchè la andiamo in cucina ma no sottomarino ah vabbè allora sottomarino mi prenderò yeah perchè però sottomarino cucina è molto meglio cucina cioè ragazzi per ora sto facendo 6-0 eh difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore in 3 round 0 morti eh ah ma qui si va che forza no io ero con le due botole se ho dimenticato il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio 1 siamo a 10 secondi 2 è 2 sto dentro ovviamente perchè questo è un posto enorme da proteggere perchè non li metteva qua i due rinforzi se li ha messi là qua solamente si rinforzano tutti si può barricare tutto tutta la camera diciamo c'è un filo spinato qua un altro filo spinato qua allora togli sto filo spinato mettilo qua chissà la trappola non la vedo ok ok mamma mia brava mio bravo no a crashare brutalmente buono buono ho fatto ferimento e qua però devo andare levati che cosa ho combinato ad andarli da dietro a questi mamma mia ragazzi 10-0 10-0 io posso e concluire ti ho un video bella raga rutto ciao ciao